Il film su Vestignano l'hanno realizzato gli studenti del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. Sentiamo Desida Dario. Un progetto per la conservazione della memoria dei borghi svuotati dal sisma. Vestignano, frazioni di Caldarola, è protagonista di un docufilm realizzato da nove classi dei licei Leonardo Da Vinci di Civitanova Marche che racconta la resilienza in un'indagine svolta dagli studenti. Sicuramente vedere questi luoghi che riescono comunque a comunicare un senso di speranza e di rinascita. Il percorso didattico spazza dall'arte all'informatica per acquisire competenze professionali. Per la produzione di questo docufilm useremo tecniche di montaggio e software video forniti direttamente dalla scuola quindi anche un'opportunità per noi studenti di imparare qualcosa di nuovo specialmente riguardante la tecnica dato che in futuro, chissà, magari verremo in botti in un lavoro che richieda queste conoscenze. Gli studenti hanno raccolto le testimonianze dei pochi residenti rimasti in un progetto di formazione che mira a sviluppare la coscienza civile e valorizzare il patrimonio artistico. L'obiettivo è tramandare l'identità del territorio attraverso gli occhi della gente. Io ho avuto il piacere di intervistare due inglesi che hanno inciso di trasferirsi a Vestignano dopo essere andati in pensione. Hanno trovato una comunità unita, calorosa e sempre pronta ad aiutare. Abbiamo posto delle domande riguardanti la loro infanzia, magari come si sentivano durante questo periodo della loro vita che hanno passato in questo paese. Ci sono delle rievocazioni storiche che attraverso il nostro progetto, il nostro lavoro, tutti potranno magari conoscere e un giorno venire anche a vivere. Andiamo a Torre di Palme, parliamo di ciclismo col campionato nazionale di ciclocross dell'Unione Italiana Sport. Cinquantesima edizione nel fermano del campionato nazionale di ciclocross Wisp organizzato dagli amici del ciclismo Porto San Giorgio a Torre di Palme, fonte di Mosè su un circuito di 1750 metri, giornata di sole che ha incoraggiato la partecipazione con circa un centinaio di iscritti nelle varie categorie. Nella prima corsa tricolore Open la vittoria è andata al campione marchigiano Rino Gasparrini che ha condotto la gara in testa precedendo Giulio Scopetani e Simone Pioli. Nella seconda gara il titolo è andato al modenese Mario Baschieri davanti a Fabio Fei e Andrea Pighini. Nelle due categorie Master Donne, primo posto per Mariangela Erika Gianni e Mirella Victoria Nemes. Nella corsa per i non tesserati successo di Gianluca Censi davanti a Quartigia e Raimondi. Centrato anche l'obiettivo della promozione turistica del Borgo di Fermo legato al ciclismo amatoriale, stagione regionale che si avvia la chiusura prima di passare il testimone a quella su strada. Da questa sera a San Benedetto del Tronto la quinta edizione della rassegna letteraria e musicale in art. Vediamo. Il primo appuntamento è stasera al Teatro della Concordia con la serata No, non rimpiango nulla, un omaggio a Edith Piaf in due momenti con lo spettacolo di Laura Margherita Di Marco e poi il concerto per voce e chitarra di Ilaria Pilar Patassini e Antonio Ragosta. Per il quinto anno torna a San Benedetto del Tronto la rassegna letteraria e musicale in art organizzata dall'Associazione Culturale Rinascenza con la direzione artistica di Annalisa Frontalini. 13 raffinati appuntamenti di arte e musica che si susseguiranno fino al 23 aprile non solo a teatro ma anche al pub Medoc con la rassegna in art winter tutti caratterizzati da spunti di riflessione e momenti di condivisione, di gioia e bellezza. Importante il contributo degli scatti fotografici affidati ad Alessandra Mandozzi e Jumalab mentre la mostra fotografica Natura Umana di Andrea Salvucci accompagnerà gli eventi fuori dal teatro. Negli anni la rassegna ha ospitato artisti di fama ed emergenti in contesti informali. Il 19 febbraio serata a teatro dedicata a Gian Maria Testa mentre il 7 marzo sarà la volta del tributo a Gaber 20 anni senza il signor G. C'è spazio per una notizia di sport esordio vincente per Camila Giorgi agli Australian Open la 31enne di Macerata ha liquidato 6-0, 6-1 in appena 55 minuti la russa Anastasia Pavlyuchenkova al secondo turno Giorgi troverà la slovacca Ana Carolina Smiedlova che ha battuto a sorpresa in due set l'italiana Martina Trevisan è tutto per questa edizione, buona giornata Bergamo e Brescia due città unite straordinariamente nel 2023 in un unico intento essere capitale italiana della cultura avranno un anno per mostrarsi come città illuminata un anno per sviluppare insieme uno straordinario percorso culturale speciale TGR Bergamo-Brescia, capitale italiana della cultura 2023 venerdì alle 16.45 su Rai3